Il Signore e il Signore Il Signore Il Signore Una forza varia sette volte in mezzo del suo corpo E dopo aver intervisto la direzione nel volo sull'auto negativo durante questa manovra Il Signore Il Signore Comincia così la scampionata del nuovo solista della famiglia adramatica nazionale Il Signore Il Signore Il Signore